Oggi è una giornata importantissima, innanzitutto perché è la giornata e la festa dell'albero e dedichiamo questa giornata a Varese alla rimessa a dimora dello storico piantone, con un'essenza particolare e la vogliamo soprattutto dedicare a tutti coloro che in questi mesi stanno lottando contro questo terribile virus, nella speranza che appena usciremo da questa pandemia si possa ritornare a far diventare questo luogo un luogo d'incontro e poi la dedichiamo anche a tutte le persone che purtroppo non ce l'hanno fatta e non ci sono più. Questo diventerà anche un luogo in cui attraverso la natura, un'essenza importante, si potrà ricordare anche le persone che purtroppo ci hanno lasciato in questa pandemia.